La caratteristica di questa campagna elettorale è pochi temi, tanto sulle persone. 11 candidati a governatore del Veneto, due dei quali a rischio esclusione nel giorno di chiusura dei termini per la presentazione di liste e candidature in Veneto contro il governatore uscente Luca Zaia. Sostenuto da Lega, lista Zaia Presidente, Fratelli d'Italia, Forza Italia Autonomia e lista Veneta Autonomia scendono in campo 10 sfidanti. Arturo Lorenzoni, candidato del Partito Democratico, il Veneto che vogliamo, Europa Verde, Sanca Autonoma e più Veneto in Europa Volt. Quindi Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, Daniela Sbrollini d'Italia Viva, PSI, PRI, Civica Veneto, Antonio Guadagnini del Partito dei Veneti, Paolo Benveniù di Solidarietà Ambiente Lavoro, Rifondazione PC, Patrizia Bartelle di Veneto Ecologia Solidarietà, Simonetta Rubinato di Veneto, Rubinato per le Autonomie, Paolo Girotto di Movimento 3V Libertà di Scelta, Ivano Spano di Indipendenza Noi Veneto e Loris Palmerini per Benexi e per l'autogoverno. Ma la mia impressione è che non ne abbiamo mai avuti così tanti. Da un lato mostra che la competizione politica rimane sempre uno sport interessante. Dall'altro lato questo è tipico e una specificità veneta, e cioè l'autonomismo. Tutte queste candidature sono in larga parte candidature autonomistiche. Questo non si osserva in nessun'altra parte d'Italia e fa del Veneto una regione a parte. Sono proprio Spano e Palmerini a rischiare l'esclusione per la mancanza dell'esenzione regionale dalle firme. Quest'ultimo ha presentato una memoria giuridica che, facendo riferimento alla legge nazionale del 2004, sostiene la legittimità dell'esenzione. Mentre Indipendenza Noi Veneto è decisa a dare battaglia a Guadagnini. L'intenzione è contestare l'esenzione concessa al candidato del Partito dei Veneti, guadagnata venendo eletto cinque anni fa proprio con indipendenza. Quanto alla competizione in sé, per il politologo Feltrin riserva molte incognite, prima tra tutte l'affluenza. Noi non abbiamo la più palida idea di quale sarà la partecipazione elettorale. Per tre ragioni, cioè non abbiamo mai votato in autunno. La campagna elettorale è una campagna elettorale anomala. E terza ragione, la preoccupazione Covid. Un vantaggio c'è da parte di chi governa. In ogni caso è una campagna elettorale, anche qui da studiare, perché prevalentemente svolta sui social. E sotto un certo profilo è una sorta di esperimento metodologico. Cioè vedere in condizioni estreme come reagiscono gli elettori, nel caso del Veneto, gli elettori veneti, a una campagna elettorale, tra virgolette, in tempi di guerra. Vedremo, sarà utile e importante studiare bene le lezioni che ci vengono, le lezioni dalle elezioni. Questo direi.